Avvocato Stigliano, consigliere del PD presso il Comune di Altamura, all'opposizione. In questi giorni c'è una preoccupazione allarmante, ovviamente qualche professore ha invitato la gente a stare calmi sulla malattia chiamata SEU. Lei comunque ha presentato un'interpellanza, come mai? Beh, io credo innanzitutto che si debbano smorzare i toni perché allo Stato sono stati effettuati, queste sono le notizie dell'ultima ora, una serie di prelievi in diversi luoghi di Altamura, allo Stato non ci sono risposte definitive, le voci più autorevoli, quella per esempio del professor Gesualdo, rassicura tutti, ovviamente dice a tutti di essere cauti nel consumo di latte crudo, latte non pastorizzato e di verdure crude, ma nel contempo invita a non farsi prendere dal panico. Perché l'interpellanza? Per una ragione pratica, in questo momento i cittadini che quotidianamente si confrontano, con noi, con me in particolare, denunciano l'assenza di notizie. Certo, non sempre si possono dare notizie, meno che mai rassicuranti se prima non ci sono dati certi, ma in questo momento l'ente pubblico territoriale, il comune di Altamura, che peraltro per legge è anche ufficiale sanitario di prima istanza, ha, secondo me, l'obbligo di mantenere un canale informativo aperto costantemente proprio con i cittadini, proprio per evitare, tra l'altro, che si diffondano voci false, voci dettate dal panico, voci dettate dalla paura. La sua interpellanza in che cosa consiste? Un'interpellanza rivolta solamente al sindaco oppure anche all'assessorato alla regione Puglia, all'assessorato alla sanità e quindi per arrivare sino al Ministero della Salute? Chiaramente il mio livello di comunicazione è quello comunale, pertanto l'interpellanza da me proposta è nei confronti del sindaco del comune di Altamura e dell'assessore competente per materia. Ovviamente se si parla di un'epidemia, sono al momento due casi certi, più uno probabile, più uno eventuale. Se dovesse giungere al livello di epidemia, a questo punto chiaramente dal territorio, da noi, non potrebbe che partire un'istanza forte proprio al Presidente della regione Puglia che peraltro conserva ancora oggi la delega alla sanità. Consigliere, c'è un po' di allarmismo qui ad Altamura riguarda la vicenda della SEU, però le autorità sanitarie da Bari hanno detto di stare assolutamente tranquilli, di non creare panico. Il Movimento 5 Stelle come si sta ponendo di tanzia a questo fenomeno? Noi esprimiamo cordoglio purtroppo per il tragico epilogo che ha visto coinvolto la nostra concittadina Vittoria. Noi siamo sempre stati in contatto con il Consigliere regionale Mario Conca, che è in Commissione Sanitaria e ci ha rassicurati sui controlli che stanno facendo all'ivato regionale e su questo tavolo tecnico. Ovviamente chiediamo alla cittadinanza di non farsi prendere da questa psicosi e di non diramare messaggi che possono creare allarmismi inutili e di attendere, ovviamente c'è preoccupazione, questo è comprensibile, ma di attendere i risultati ufficiali del tavolo tecnico e anche dell'ASDE anche perché gli inquirenti stanno facendo un ottimo lavoro in tal senso. E nel caso in cui dovessero dare esiti purtroppo positivi, come voi in opposizione agirete? Quali sono le iniziative che intraprenderete? La nostra richiesta sarà fatta in Consiglio Comunale dove si può aprire una discussione e chiederemo al Sindaco che è il garante della salute e della sanità dei cittadini altamurani di incentivare i controlli soprattutto per le attività commerciali e per quanto riguarda questi prodotti che possono essere attenzionati da questa tipologia di batterio.